Buonasera a tutti, bentrovati web ascoltatori della nostra app di Radio 6.it, l'app per iPhone e per Android in voce per voi Alessandro Zappulla, Stagio Olimpico di Roma, ventottesima giornata di campionato, Lazio e Las Verona, in mia compagnia c'è Alessandro Edirectis. Buonasera, buonasera a tutti. Mauri, per basta a destra, si apre un barco, ci prova basta, Alex Udinese, il cross in mezzo, testa, para go! 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 Anche di testa! Anche di testa! Felipe Anderson! Il vantaggio tra Lazio! Lazio 1! Lazio 1! Verona, niente! Anche il colpo di testa! Go! 45esimo, 40 secondi, 2 minuti di recupero, quindi 1 minuto e 20 secondi, vediamo un po' chi si occorrerà di questo calcio di punizione, Antonio Candreva, palla che viene monopolizzata da lui, dalla distanza c'è Luca Sbiglia ma soprattutto c'è Antonio Candreva, siamo tutti al 46esimo in questo istante, parte Antonio Candreva con il destro, la botta! Go! 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 Una mina! Un missile! Una mina! Antonio, magia! Candreva! Lazio 2! Lazio 2! Lazio 2! Verona, niente! La Lazio! La Lazio spedisce il Verona all'inferno! Già l'anno fine nel primo tempo, Lazio 2! Verona, niente! Antonio Candreva! Finisce in questo istante il tipice mischio di Davide Massa, direttore di gara, Lazio 2! Verona, niente! Il gol di Felipe Anderson e di Candreva, i gol nel primo tempo, Lazio stende anche il Verona e punta diritto la sua corsa verso la Champions League! Grazie!